Buongiorno a tutti, sono Roberto Bondi e sono il coordinatore del servizio Marconi TSI. Il servizio Marconi TSI è una task force composta di docenti, in parte in servizio a scuola, in parte in servizio in ufficio, che opera sul tema delle tecnologie per la didattica in funzione di supporto e appoggio per le scuole e per i docenti. Tra le attività che svolgiamo, una parte consistente del lavoro è presa dalle attività di formazione e di accompagnamento delle scuole che stanno cercando di muovere i primi, ormai non più i primi, passi su questo tema delle tecnologie per la didattica. In questo anno scolastico abbiamo ottenuto una serie di oltre 30 incontri a cadenza settimanale, qui presso la nostra sede, nella Sala Ovale, di formazione per i docenti. I temi di questi incontri hanno ripercorso quella che è stata la nostra idea e la nostra proposta per la dotazione delle classi 2.0, ovvero la metà circa degli incontri si sono concentrati sul tema della piattaforma Google App for Education, che riteniamo sia allo stato attuale quella che esprima il miglior rapporto cost-opportunità per le scuole, essendo gratuita e molto ricca nei suoi contenuti. Oltre allo specifico della piattaforma, come amministrarla e come utilizzarla lato docente, abbiamo approfondito i temi della gestione dei device in classe, perché nella nostra ottica di dotazioni differenziate occorre chiarare quel substrato di conoscenze necessarie, conoscenze minime necessarie ai docenti, per poter affrontare una classe dotata di sistemi operativi e di device variegati, che è poi la dotazione che si deve utilizzare se si va sul BIOD come soluzione. Oltre a questi è stato sviluppato con due percorsi specifici, il tema dei siti web per le scuole e il tema delle interazioni con l'estero attraverso la piattaforma e quindi alcuni elementi che vogliamo sottolineare di questa proposta formativa. Il primo è la modalità di pubblicitazione, diffusione e raccolta delle iscrizioni. Pur essendo un'attività istituzionale gestita da noi in quanto sito scolastico regionale, non è stata trattata attraverso circolari e modalità ufficiali solte, ma solo sui social network e sui media che usiamo per confrontarci con il mondo dei docenti che si occupano di tecnologia didattica. sostanzialmente attraverso Twitter, attraverso la nostra pagina Facebook e attraverso il nostro sito. Il risultato è stato quello di avere praticamente la copertura dei posti in quasi tutti gli eventi nel giro di poche ore dalla diffusione della notizia. E questo è un primo punto importante sul quale ragionare. Il secondo è quello della dotazione d'aula. Sappiamo che i colleghi hanno bisogno di incontri laboratoriali, pratici, dove possono mettere in pratica quello che poi troveranno a scuola. Ma qui siamo in un ufficio e non abbiamo delle dotazioni, non abbiamo dei laboratori attrezzati. La scelta è stata allora quella di puntare sul build. Si viene a fare formazione ciascuno con il proprio device. Chiaramente mettiamo a disposizione una buona connessione internet per tutti i partecipanti e l'accesso alla videoproiezione. Il risultato è quello di un'aula che assomiglia molto da un lato alla dotazione mista e mobile che abbiamo proposto in questi ultimi anni, ma anche all'aula che nelle scuole si può realizzare una volta che si sceglie bring your own device, build, come modalità tecnica di dotazione dell'aula. Il confronto quindi con i colleghi che hanno partecipato alla formazione si è fondato appunto su queste caratteristiche di ambiente e di insieme. Come nasce in questo quadro questa due giorni estiva giugno di Primarie al Marconi? Primarie al Marconi nasce come promessa e come scommessa. Promessa perché nella formazione del ciclo di Salovale abbiamo avuto parecchi colleghi che sono rimasti fuori e nei questionari di ritorno dove abbiamo registrato dei dati direi nella quasi totalità dei casi positivi avevamo anche l'espressione di una ulteriore domanda e richiesta di altri appuntamenti per approfondire o per affrontare quei temi dai quali si era stato scritto. Scommessa perché comunque è fine giugno, le lezioni sono già terminate, tanti sono impegnati negli esami e in altre attività e quindi il dubbio era di avere pochissime persone. Stando invece di nuovo alla diffusione della notizia, all'apertura del modulo di iscrizione siamo stati contattati da quasi 100 colleghi tutti di scuola primaria perché dato il periodo abbiamo concentrato l'offerta in questo caso verso i colleghi della scuola primaria, siamo stati contattati appunto da un centinaio di persone, i posti disponibili nei laboratori che offriamo sono circa 50 e questo dato la dice già lunga sullo stato delle richieste e sulla voglia di fare, partecipare, mettersi in gioco che c'è all'interno di un multito gruppo di docenti. Ho deciso di offrire l'attività di formazione primaria al Marconi su che cosa orientare questa offerta. Due piccole considerazioni sullo stato dell'arte oggi a metà 2015 del digitale in classe. Abbiamo da una parte il tema a noi molto caro che è quello della classe 2.0. In estrema sintesi per noi il lavoro con le classi 2.0 è un lavoro sull'idea di ambiente di apprendimento dove le tecnologie si affiancano a quello che è il bagaglio tradizionale del docente. Tecnologie che vanno ad incidere sul modo di fare scuola per cui si cercano nuove modalità, nuovi percorsi dove il ruolo dello studente è un ruolo attivo in quanto si muove in uno spazio allargato dalla tecnologia dove trova informazioni, contenuti e dove con questi deve interagire in prima persona. Classi 2.0 l'abbiamo seguito in tutta la sua prima edizione quando era un percorso molto elitario rivolto a un numero ristretto di scuole. Oggi in un certo senso ci sentiamo in debito con le nuove classi 2.0 perché con i finanziamenti degli anni 2013-2015 abbiamo creato un insieme di classi che è quasi raddoppiato nel periodo per investimenti propri fatti dalle singole scuole che non hanno avuto come supporto costante anche da parte nostra dall'istituzione e dall'ufficio tutto quegli insiemi di attività di accompagnamento e di formazione che però invece i pionieri del primo ciclo. Questo a che cosa ha portato? Ha portato oggi a un forte sviluppo autonomo, tante fughe in avanti, laterali, il mondo è molto variegato delle scuole e dentro c'è di tutto che stanno producendo comunque degli ottimi risultati. Un riscontro l'abbiamo avuto in tempi molto recenti a Ferrara dove abbiamo incontrato una cinquantina di classi 2.0 che abbiamo potuto accompagnare e seguire all'interno del progetto finanziato da Coppa. Ripensavo alle singole presentazioni fatte dai docenti. Siamo nel 2015 e per certi versi le singole presentazioni erano quelle che si potevano vedere quando ci si incontrava a Montecattini o a Genova nel 2010 con le classi pioniere delle classi 2.0. Qual è però il punto che fa la differenza? Che nel nostro caso, data una certa area geografica, erano rappresentate tutte le istituzioni scolastiche, tutte avevano almeno una classe 2.0, quasi tutte hanno raccontato delle classi vicine che sono state contaminate dal modello funzionante che hanno visto e che hanno cominciato attraverso il biodo, attraverso dei prestiti, attraverso delle modalità di lavoro con pochi strumenti ad attuare queste modalità e soprattutto a raggiungere degli ottimi risultati. Quindi ci sentiamo di continuare a lavorare in questa direzione e a supportare i docenti che rimpallandosi notizie, informazioni o perché no anche entusiasmi si stanno muovendo in questa direzione. Il tema per noi centrale della classe 2.0 e del lavoro con le piattaforme e le web application è stato in questo anno scolastico 2014-15 affiancato prepotentemente, soprattutto nelle scuole del primo ciclo, da nuove tematiche legate al digital in classe che si sono imposte. Parliamo dell'attività legata al coding, al making, alla realizzazione di prodotti, la didattica del fare e quant'altro che nasce da forti suggestioni che vengono dall'estero e da altri ambienti e che per noi in Emilia Romagna e a Bologna hanno soprattutto voluto dire interessantissime interazioni tra noi e il mondo dei coder dojo, penso in primo luogo al coder dojo bolognese e quello di altri attori come quelli che abbiamo incrociato ad esempio con il progetto Girls to be Better dove alcune istanze del making e della progettazione e sviluppo di prototipi e di prodotti è stato portato avanti dentro alle scuole secondarie di primo grado un luogo ristretto mettendo in coabitazione un docenti abituato alla didattica da una di classe con un maker abituato ai progetti e ai laboratori. Sono temi di grandissimo interesse, li abbiamo affrontati con il convegno di ottobre Pensare Digitale dove sono state messe a confronto alcune voci, tutto documentato in rete e accessibile a link che si può recuperare sul sito Servizio Marconi e soprattutto a metà tra lo spontaneismo di alcune scuole e la nostra azione di accompagnamento, penso ad esempio al lavoro della collega Alessandra Serra in alcune scuole della bassa modenese, abbiamo visto che dentro ad alcune scuole questi temi sono già entrati sulle classi 2.0 e hanno affiancato il lavoro con i programmi e le piattaforme ottenendo dei risultati di altissimo interesse. Questa è una strada che vogliamo proseguire e che soprattutto nella nostra ottica non è assolutamente l'unica e soprattutto non è in contrapposizione ma in piena interazione e massima continuità con quello che è stato fatto negli ultimi anni con Scuola Digitale. È in questo senso che queste nuove tematiche da un lato saranno centrali, nel nuovo progetto che grazie all'apporto di Coppa andremo a realizzare a partire da settembre su un insieme di oltre 50 scuole primarie su quattro province dell'Emilia Romagna ed è centrale anche dentro a questa proposta formativa di primarie al Marconi. Che cosa offre allora questo primarie al Marconi? Intanto offre solo dei laboratori pratici a numero chiuso dove i docenti potranno in diretta toccare con mano sperimentare e lavorare. La necessaria parentesi della seduta plenaria l'abbiamo infatti delegata a queste registrazioni video. I laboratori si può dire che sono articolati su tre percorsi. Il primo è quello delle nuove istanze la didattica del fare nella scuola primaria e prevede prima un incontro sul cosiddetto tinkering ovvero lavorare con le mani per avvicinare temi quali la costruzione di piccoli circuiti, sapere come funzionano le cose, creare dei primi piccoli automatismi, tutto chiaramente a misura di barbino. E poi un altro tema oggi molto interessante che è quello della micronobotica grazie ai nuovi device che comparano sul mercato che viene associata all'uso di scratch e della microprogrammazione. Cioè la possibilità di far sì che la programmazione non muova solo degli oggetti sullo schermo ma muova appunto degli automi, dei robot che si muovono nel mondo reale e interagiscono con i bambini, con gli oggetti, con le cose. Il secondo percorso non poteva mancare è quello legato a Google App for Education e finalizzato alla gestione e all'uso di una piattaforma a misura dell'istituto. Infine il terzo filone che non è fatto di un percorso di due incontri che si innestano uno sull'altro, ma non puri di laboratori singoli su vari temi, è quello del 2.0, ovvero dell'uso del web, delle web application e dell'interattività in un ambiente di classe dove compaiono dei device eterogenei. Questo è, andremo a raccogliere come sempre i risultati attraverso le interazioni con i colleghi, con i questionari. Finora abbiamo sempre avuto ottimi gradimenti, ma l'interazione, la raccolta delle informazioni per noi è fondamentale perché vogliamo continuare a offrire qualcosa di valido, di gradito, di richiesto, è comunque vicino al mondo della scuola del quale ci sentiamo di fare parte al 100%.